Grazie, davvero grazie Presidente. La ringrazio e attraverso lei ringrazio tutta la comunità del credito cooperativo a cui sono profondamente grata per questo invito, per questa importante opportunità. Saluto anche il Presidente Gardini che ho ritrovato volentieri, tutte le cariche istituzionali presenti in questa importante Assemblea. Un'Assemblea che si colloca, lo ha ricordato giustamente Presidente, in un momento storico che non è neutro per il nostro Paese. Certamente gli accadimenti delle ultime ore hanno aggravato un quadro di crisi e di percezione, di esperienza di crisi che abbiamo vissuto, ma io credo che da qui oggi si debba partire e ripartire nella piena consapevolezza che ogni agire umano si colloca inevitabilmente, altrimenti non è agire e non è umano, nel tempo di una storia, una storia che non è solo in qualche modo consegnata, ma una storia che deve essere abitata, incarnata e generata. E quindi ogni azione di costruzione di un'azione politica che si possa direttare nella responsabilità civile che questo termine porta in sé, quindi un esercizio di un'animazione di un processo democratico di cui tutti siamo partecipi, ecco questa azione politica deve fare i conti non solo con una storia che in qualche modo viene irrompe nelle nostre vite, ma deve sapersi radicare e generare processi di storia, di una storia nuova, di una storia che sappia rispondere pienamente a quel volto di umanità a cui noi ambiamo, ambiamo come donne, come uomini, come comunità nella loro interezza. Io credo che questo dia chiaramente un nuovo paradigma anche nel costruire le politiche pubbliche, le nuove alleanze anche tra le politiche pubbliche e le politiche private, un nuovo spazio anche per la cooperazione, dopo entrerò maggiormente nel dettaglio anche di questo. E questa idea di una azione politica di paese, di comunità, che si collochi nel tempo della storia e impone all'azione politica, credo, due dinamiche che sono profondamente integrate e in qualche modo rivoluzionarie anche nel nostro tempo. La prima, e in questo insomma mi riferisco anche a quella sollecitazione importante che Papa Francesco ha fatto in questa direzione, sul fatto che la buona politica è una politica che sa generare processi. Generare processi significa una politica che sa vivere due dimensioni integrate, una è la dimensione del tempo, della prospettiva del tempo e del divenire e dell'avvenire, e l'altra è la dimensione della relazione, della connessione di uno spazio che non è semplicemente un vuoto da riempire, ma il luogo delle connessioni che vanno animate e abitate, le nostre comunità, la nostra esperienza di comunità, da quella economica, quella finanziaria, quella delle politiche sociali, o si animano di queste due dimensioni che si devono reintegrare anche in una nuova visione di una teoria della relatività che entra nelle nostre dimensioni di umanità, quindi quella del tempo e dello spazio dove spazio intende la dimensione della storicità delle relazioni, oppure una politica che non interpreta questo mandato di generazione di un processo, di un processo storico. Per fare questo però serve altresì un metodo, serve un metodo che deve essere chiaro e rinnovato e questo metodo è un metodo che deve in qualche modo essere interpretato non solo, lasciatemi dire, da chi progetta la visione del futuro nella terra che verrà, ma anche nel chi contestualmente, in questa progettazione del dopo, agisce oggi da un punto di vista anche legislativo e normativo, oltre che di politiche attive, nella promozione diciamo di questo nuovo processo. E allora il metodo che vorrei un po' con voi oggi condividere, questo nuovo metodo anche per le politiche pubbliche, poi in particolare io entrerò nell'ambito di quelle di cui mi sono occupata, mi sto ancora in questa parte occupando, quindi quelle di sostegno alle politiche familiari, alle politiche sociali, il tema delle pari opportunità, la promozione diciamo delle pari opportunità, ma più in generale questo è un metodo che si allarga appunto ad un'azione trasversale nel Paese. ogni decisione assunta, ogni azione deve avere sempre una direzionalità chiara che deve essere il principio di discernimento rispetto al quale questa decisione non solo viene assunta, ma diventa poi ampiamente declinata. E allora la politica che non si limita a organizzare, che non si limita a reagire allo stimolo, sia esso nel bene e nel male, io so che i vostri, oggi voi dopo la conferenza di ieri di Christine Lagarde siete e sarete impegnati a ragionare su cosa è la reazione di un sistema, ma altrettanto questa reazione di un sistema deve in qualche modo sapere essere azione che agisce un processo, che certamente deve anche reagire all'elemento storico, ma che su questo si deve innescare per reagire su nuova storia. Ed ecco perché le politiche, anche le politiche sociali, anche le politiche sociali non possono avere soltanto un ruolo di riorganizzazione di un sistema di caos o di complessità, ma devono avere la capacità di attivare processi che da questa complessità direzionano il sistema in qualche modo verso l'obiettivo ultimo che ci siamo prefissati. Quindi questo è diciamo l'elemento tempo di direzionalità di un'azione anche legislativa che attiva processi di investimento. Faccio un esempio molto concreto per dare conto di quello che in qualche modo sto dicendo. Quando abbiamo introdotto per le imprese del nostro paese anche la certificazione per la parità di genere e a questa certificazione abbiamo deciso di fare conseguire vantaggi di carattere fiscale per le imprese o modificando il codice degli appalti che abbiamo modificato, vantaggi nel senso di riconoscimento di premialità nell'ambito dell'appalto pubblico, abbiamo con chiarezza indirizzato, lasciatemi usare questo termine che qui non sono un economista, ma insomma il mercato nel senso della nostra dinamica, delle scelte collettive in una direzione chiara, che era quello di investire in parità di genere, in promozione di lavoro femminile riconoscendo che ogni investimento fatto in quella direzione è capace di attivare e generare un valore sociale che quindi contribuisce di fatto a quel meccanismo di sviluppo che noi stiamo portando avanti che quindi deve essere riconosciuto e sollecitato, non solo organizzato. Quindi una volta che noi diciamo chi avrà la certificazione avrà un vantaggio fiscale, stiamo indirizzando gli investimenti in una direzione che è una direzione ovviamente di un bene comune che abbiamo nel cuore e nella testa di volere costruire. Quindi una zona legislativa che attiva processi temporali. L'altro elemento del metodo che vi stavo illustrando è quello invece della dimensione, come dicevo, della connessione. Una politica che vuole generare processi storici è una politica che sa anche farsi connessione nella storia, tra gli elementi stori della storia e tra i protagonisti della storia. Noi abbiamo avuto, vissuto, subito un'esperienza drammatica durante la pandemia, un'esperienza drammatica che ha tolto prospettiva, che ha tolto ricchezza, che ha tolto serenità, che ci ha fatto perdere, piangere, lo avete richiamato, vite, vite umane. È una pandemia che ci ha messo a nudo, che ha squarciato il velo sulla nostra realtà personale, antropologica, comunitaria, economica, finanziaria, produttiva delle politiche pubbliche. E se c'è un elemento chiaro che non possiamo trascurare, a cui non possiamo, di fronte a quello che non possiamo voltare la testa da un'altra parte, è il fatto che l'esperienza della pandemia ci ha raccontato di un'umanità tutta intera, connessa, composta. Ed è il fatto che il nostro sistema sociale a questa composizione non aveva saputo dare forma. Noi avevamo un sistema nel quale la dimensione economica produttiva era percepita altro, la dico proprio in termini molto semplici, dall'esperienza personale della vita delle persone. Il tempo del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori era totalmente sconnesso dal fatto che queste lavoratrici e lavoratori potevano avere o non avere responsabilità, per esempio, familiari. E abbiamo scoperto, ad esempio, che le lavoratrici e i lavoratori magari sono mamme, papà, figlie, figli, che c'è un tempo di cura di queste relazioni che entra inevitabilmente nell'esperienza del lavoro. E così, quando non avevamo gli strumenti, quando ad un certo punto abbiamo chiuso le scuole, non avevamo gli strumenti adeguati da mettere in campo per riconoscere che quel dovere e diritto del lavoro doveva essere coniugato col dovere e diritto ad una responsabilità genitoriale che andava esercitata. Ci siamo inventati degli strumenti, il congedo è steso. È chiaro che la straordinarietà della pandemia ha chiesto anche una straordinarietà di interventi, ma noi non avevamo il quadro del sistema, delle politiche pubbliche adeguato. Abbiamo imparato di come il tema della salute, dell'ambiente, entra nelle nostre vite, di come la persona umana è una sola. Gli strumenti di reazione sociale, diciamo di contenimento, pensiamo alla cassa integrazione, che è uno strumento fondamentale che abbiamo usato, gli strumenti che le imprese hanno avuto in mano per reggere l'urto drammatico economico di quel momento, erano strumenti che però non si collocavano appunto nell'interezza dell'esperienza umana e soprattutto che non coglievano, e li abbiamo dovuti inventare, quella indissolubile relazione tra, per esempio, l'elemento imprenditoria e l'elemento lavoratori e lavoratrici, o l'elemento del mondo finanziario, del credito, degli investimenti, e tutto quello che era l'elemento del mondo produttivo. Queste connessioni non le avevamo colte, eppure vanno riconosciute, e ciò che c'è, che va riconosciuto, a questo punto deve essere sostenuto. Per farlo serve ovviamente avere uno sguardo di discernimento, un discernimento che deve essere animato come un discernimento comunitario, e che credo che sia oggi il nostro dovere storico. Ecco perché, quando dopo l'esperienza della pandemia noi abbiamo vissuto la seconda esperienza drammatica, che è stata quella della guerra in Europa, di nuovo abbiamo spostato il tema, ma l'effetto è stato lo stesso, tra una presunta stabilità, in questo caso di relazioni internazionali, di un equilibrio che pensavamo ormai consolidato, che animava l'esperienza e il processo democratico, in particolare della scelta europea, è stato minato e ci ha costretti ad avere e attivare un discernimento comunitario per riconfermare quella scelta democratica e per dare e incarnare quella scelta democratica in una nuova sollecitazione della storia, che è quella di una guerra che la nostra generazione non aveva mai sperimentato e che mai avremmo pensato di dover sostenere e sperimentare. Oggi l'Italia è in un altro momento di crisi, di un'evidente crisi istituzionale, non entro nel merito ovviamente delle ragioni, guardo all'effetto oggi cos'è lo Stato, c'è un paese che è smarrito, che è attonito, che ha paura, il grande rischio, oggi il grande rischio, al di là di come la si possa pensare da una parte o dall'altra, è che ciò che venga minato sia la forma del nostro agire sociale e le istituzioni rappresentano la forma del nostro essere comunità e allora per ridare stabilità e strutturalità alle istituzioni serve di nuovo questo efflato comunitario di convincimento che dobbiamo reinterpretare quel miracolo civile che il Presidente Draghi ha richiamato secondo me in modo estremamente opportuno e forte. E allora la cooperazione, la cooperazione, il credito cooperativo in che modo si colloca in questa dinamica, non sta a me dirlo ovviamente, ma io credo, in qualche modo vi chiedo e vi sono grata per l'esperienza di paese che portate, che oggi la cooperazione possa assumere un ruolo chiave in questo nuovo processo che stiamo vivendo. Perché? Perché la cooperazione vive del metodo che ho appena terminato di illustrare. La cooperazione nasce in una scelta di connessione e di corresponsabilità che si colloca in una processualità di tempo storico, che riconosce quelli che sono i valori sociali, li interpreta, li sa discernere e da questo si sa decidere anche in che modo mettersi in campo e agire. Tanto che mi ha molto colpito, io so che insomma in altre lecce avete avuto l'intervento della Ministra Cartabia che ha fatto un lavoro attento sul valore della cooperazione o su una lettura costituzionale. Io non entro perché io sono una professoressa di analisi matematica, quindi non ho quella profondità di lettura. Eppure la Costituzione mi colpisce molto perché sull'elemento della cooperazione usa quel, non so se chiamarlo chiasmo o diciamo relazione che colloca negli articoli fondativi della nostra democrazia. Perché ci sono due, nell'articolo 45, ci sono due verbi. Riconosce, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione e quindi ne promuove e ne favorisce. Quando nella Costituzione c'è scritto che la Repubblica riconosce e quindi si assume la responsabilità di promuovere, definisce nell'elemento del riconoscimento una valenza sociale e antropologica che non è costruita dalla nostra scelta democratica ma che è assunta, riconosciuta e quindi che ha un valore antropologico, comunitario, fondativo della nostra democrazia. Perché c'è prima della Costituzione. E quello che la Costituzione fa, è quello che lo Stato deve fare, è quello che la politica deve fare, è attivare processi di promozione. Ecco perché dico che la cooperazione viene assunto come un elemento di identità della nostra comunità e che oggi noi dobbiamo sapere riconoscere, è il primo passo del discernimento, e saper sostenere e attivare. Questo ha delle implicazioni forti, fortissime, nell'ambito delle scelte, anche di carattere finanziario, anche di carattere economico, anche di carattere di sostegno sociale. E all'articolo 45 della Costituzione, che è quello tipicamente sulla cooperazione, io vorrei affiancare un secondo articolo che secondo me collega l'elemento della cooperazione anche all'elemento del credito, che è l'articolo 4. Nell'articolo 4, che è l'articolo citato come il diritto al lavoro, quindi il diritto al lavoro che deve essere pienamente, effettivamente riconosciuto e garantito, anche qui c'è un riconoscere e un garantire. C'è una seconda parte dell'articolo 4, che è in qualche modo, la riassumo con la parola contribuire, ma è il dovere per ciascuno di noi, per ogni cittadino, ogni cittadino, di svolgere qualche attività, secondo una propria libertà di scelta e una propria potenzialità, per concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Questa parola concorrere è esattamente la finalità del riconoscimento del valore che ciascuno è chiamato a mettere in campo. E allora io credo che oggi la sfida della cooperazione sia riconoscere e attivare quella capacità di concorrere in una dimensione comunitaria a questa sfida grande che abbiamo, anche dopo questo tempo di crisi, ma anche di riconoscere il valore del contributo, che può essere in diverse forme, attivato proprio in questo processo di partecipazione, che è una partecipazione profonda, perché quando si dice contribuire c'è qualcosa di più grande che un partecipare, significa che ne facciamo pienamente, totalmente parte, lo facciamo non solo trascinati, lo facciamo con un'azione positiva, unica. E allora, da questo punto di vista, cosa centano le banche di credito cooperativo, mi direte con quest'articolo 4. Io credo che centrino e centrino molto, ed è per quello che ho voluto mettere collegato l'articolo 45 e l'articolo 4, perché l'esperienza del credito cooperativo e della cooperazione nel nostro Paese assume in sé alcuni elementi chiave che ho richiamato. Uno, è un'esperienza di connessione e di profonda corresponsabilità, che è quella che ho già avuto modo di sottolineare. Due, è un'esperienza di animazione e di comunità, di quella prossimità di incontro delle persone che sa attivare quel protagonismo personale e comunitario in modo diffuso e diversificato a seconda dei territori del nostro Paese. La terra che verrà, di cui discuterete, è una terra che è fatta dalla convivialità delle tante terre attraverso le quali noi costruiamo ponti di connessione in un modello di integrazione profonda, ma che sa riconoscere la specificità della prossimità e della diversità di ogni esperienza di comunità. Voi siete il volto di questa bellezza del nostro Paese e io credo che siate non solo un volto, ma siate l'elemento di connessione e di ponte per l'attivazione di questi processi, perché l'elemento del credito diventerà sempre di più non l'elemento in qualche modo del cosiddetto risparmio statico, ma dell'attivazione di processi di investimento, perché quel concorrere al progresso materiale e spirituale della società sempre di più metterà insieme elementi di carattere economico, quelli finanziari e quelli di carattere sociale. Ecco perché è importante che nella visione politica, che colgo, che state raccontando, voi avete chiaro di come il mondo della sostenibilità e della complessità sia fatto da una coesione delle diversità e da una integrazione delle diverse prospettive e dei diversi punti di vista. E allora arriviamo, in questa ultima parte non mi voglio dilungare troppo, in modo specifico a parlare di come la riforma del Family Act si inserisce in questa visione sistemica. La riforma del Family Act è una legge, è la legge 32 2022, è una legge delega, i cui decreti attuativi dovranno a questo punto essere messi in campo, diciamo, non nego, non in questa legislatura, ma nella prossima purtroppo, ma che dà una direzionalità è un impegno chiaro, tra l'altro mi permetto anche di ricordare che è una riforma che è stata approvata trasversalmente, senza voti contrari, dall'intero arco parlamentare. Io quando è stato approvato ho detto sia chiaro. Questo significa che quando si riesce a ricomporre un impegno, una responsabilità così trasversale nell'arco parlamentare, avvenuto con l'assegno unico universale, avvenuto anche con la legge, col Family Act, significa che poi comunque vada, la responsabilità ce la siamo presa tutti insieme, che quindi era una responsabilità di fronte al Paese, per il Paese, quindi sono certa, confido, auspico, che comunque vada, da questa riforma non si possa tornare indietro, perché è una riforma importante che è stata voluta e sostenuta da tutti, ovviamente animata da una visione chiara, che nasce e che ha avuto anche il metodo della ricomposizione come un metodo strutturale, e che ha una visione ed è una riforma che sceglie di rispondere ad alcune fragilità sistemiche del nostro Paese attraverso un metodo politico che è quello della riforma, perché è il metodo delle riforme, il riformismo risponde a quella parte iniziale che dicevo, cioè una politica che sappia essere stabile e strutturale nel tempo, direzionata nell'attivazione dei processi e sappia integrare la complessità della multidimensionalità di tutte le componenti che ci sono nelle questioni pubbliche, nelle questioni sociali. Prima fragilità, denatalità del nostro Paese. Nel nostro Paese siamo ad un livello di saldo nati morti, pari solo, anzi, che non ha avuto uguali, scusatemi, nella storia dell'unità d'Italia. Dall'unità d'Italia oggi il nostro Paese ha attraversato parecchie vicissitudini storiche. Mai abbiamo avuto un saldo negativo tra i nati e i morti come in questo periodo, come nell'ultimo anno. Non è che prima della pandemia fossimo messi molto meglio, perché la pandemia ovviamente purtroppo, per la perdita di vita umane drammatica che abbiamo avuto, ha peggiorato la situazione, ma l'11 febbraio del 2020, quindi prima dell'inizio della pandemia noi avevamo i dati del 2019 che avevano un saldo naturale tra i nati e i morti pari solo al 1918. Quindi l'Italia dal 2019 aveva una prospettiva demografica pari solo a quella della prospettiva del primo conflitto bellico mondiale, quindi una situazione drammatica. L'elemento della denatalità ha, inutile che lo dica a voi, implicazioni drammatiche sulla sostenibilità del nostro sistema Paese. Da un punto di vista del welfare, noi abbiamo una percentuale di anziani molto più alta della percentuale dei giovani, quindi intanto non c'è una sostenibilità finanziaria di tenuta del sistema del welfare, ma non c'è nemmeno una sostenibilità di chi può interpretare i processi produttivi e di innovazione che sono necessari ovviamente per un progresso del Paese. Quindi è un Paese che è destinato allo spegnimento, un Paese che non sa invertire questo trend ed è questa oggi stata la nostra scelta. Per farlo serviva però il coraggio di una politica che investisse in un'azione che non avrà un effetto domani, l'anno prossimo non avremo, come dire, effetti significativi di sistema, lo sapete anche voi, ci sono degli effetti che hanno, come dire, mobilità sui mercati istantanei e poi ci sono effetti che invece hanno una mobilità di più lungo, medio, lungo periodo. Ecco, questo si colloca nella seconda parte ed è per quello che serviva l'idea di una riforma strutturata in avanti. L'altro elemento che è altrettanto connesso è il fatto che quella visione iniziale di esperienza umana che è divisa un po' in se stessa, nei ruoli, ha fatto sì che noi perdessimo quelle energie delle nostre comunità che sono le persone umane, che è la nostra umanità. Perché quando noi tagliamo fuori dal mercato del lavoro metà della popolazione femminile, chi vive nel sud Italia sa che solo invece una donna su tre nel sud Italia lavora, stiamo perdendo punti di pil, potenzialità umana, stiamo mettendo in campo dei cattivi investimenti perché noi le donne e le ragazze le formiamo, tra l'altro con risultati alti all'uscita dal percorso di studio e quindi poi abbiamo la squadra migliore e quella la teniamo in panchina. È evidentemente un cattivo investimento di finanza pubblica. Allora in che modo noi possiamo andare a invertire queste due tendenze che però rispondono ad una stessa esigenza? Qual è questa esigenza? Di mettere tutti nelle condizioni di poter essere energia per le nostre comunità, nel mondo del lavoro ma anche attraverso i progetti personali di vita, ivi compresi quelli della genitorialità. Il Family Act vuole restituire questa opportunità e lo fa in cinque modi. Uno, cambiando la fiscalità per le famiglie. L'Assegno Unico Universale ha invertito il processo di welfare fiscale e ha spostato il sostegno alla genitorialità dall'ottica di un sostegno riparativo di condizioni di povertà per le famiglie con i figli ad un'ottica di attivazione di sostegno di un investimento attraverso il riconoscimento che l'azione educativa che le famiglie svolgono e l'azione formativa di genitorialità delle famiglie con i figli è elemento di contribuzione alla nostra vita sociale e quindi va riconosciuto e in qualche modo va defiscalizzato, quasi come l'Assegno in qualche modo è una sorta di, nasce come una tassa negativa, cioè di una restituzione di valore alle famiglie, di un valore che le famiglie mettono in campo ed è per questo che per esempio aumenta dal terzo figlio perché attiva in qualche modo e riconosce un investimento ulteriore dal terzo figlio in poi, aumenta nel caso di lavoro femminile, una delle azioni su cui sto lavorando che è prevista nel Family Act è per esempio l'aumento anche di salari di potere diciamo economico delle donne a rientro dopo la maternità, perché noi oggi abbiamo un sistema di protezione sociale che inibisce la scelta della permanenza al lavoro dopo la maternità di una donna, che è uno dei punti fragili del sistema del nostro welfare lavorativo. Oltre a questo però c'è un tema di responsabilità comunitaria, di quell'attivazione, di quel mondo del terzo settore che tanto anima e tanto si rivolge anche al mondo della cooperazione e del credito cooperativo. Un terzo settore che sempre di più sta svolgendo non un ruolo sostitutivo allo Stato ma nel principio pieno della sussidiarietà, un ruolo proattivo di protagonista irrinunciabile nell'azione, anche nell'azione educativa. Il mondo dell'educazione non formale per la prima volta viene riconosciuto e codificato nell'ambito del Family Act come un agente sociale di prospettiva e di investimento. E nel momento in cui noi facciamo questo tipo di investimento stiamo indirizzando anche la società a scegliere l'educazione come una delle azioni primarie per la propria sostenibilità. Dagli asili nido, che col PNRR sono finanziati, arriveremo al 50% della disponibilità dei posti, oggi siamo al 27%, alle infrastrutture sociali, al tempo pieno nelle scuole. Quarto tema, il tema del lavoro femminile. Come vi dicevo, la necessità di eliminare quella dicotomia tra la maternità e il lavoro per una donna. La certificazione per la parità di genere con questa fiscalità agevolata per le imprese è uno degli elementi. Un altro elemento, come dicevo, è l'incentivo al salario femminile nell'ambito del Family Act. E l'ultimo elemento, l'elemento dei giovani con una particolare attenzione all'attività lavorativa e al tema anche abitativo. Le forme di sostegno al mutuo e di incentivi per l'affitto e per l'abitazione vanno nella direzionalità di anticipare le scelte di vita autonoma. Allora, in questa visione sistemica, in che modo la cooperazione può entrare? E io credo che il modo sia evidente, penso che possa essere, come dire, coeso e sono certa che possa uscire dal dibattito di questa assemblea. Perché si tratta oggi di interpretare, nella piena vocazione dell'identità da cui nasce l'esperienza cooperativa e l'esperienza del credito cooperativo, una nuova prospettiva di azione sociale, nella quale sempre di più l'elemento della sostenibilità non diventa un limite massimo oltre il quale non si può andare, ma diventa la capacità di ottimizzare un sistema nella sua molteplicità delle componenti. E allora il valore della produzione del valore sociale finanziario deve essere contestualmente assunto rispetto al tema del valore sociale, del riconoscimento della maternità. E arrivare in qualche modo a dire che la maternità non è più un costo per le imprese, ma diventa un investimento potenziale di Paese, lo si fa attraverso la fiscalità, attraverso strumenti di carattere sociale e attraverso il mondo del privato e del credito, degli investimenti privati che devono in qualche modo essere parte attiva e proattiva di questo processo. Ecco, io chiudo, diciamo, questo mio intervento auspicando che davvero questa nuova sfida che abbiamo insieme, è una sfida importante che possiamo richiamare. E per farlo vorrei partire da quello che avete scritto, dalla dimensione dell'energia, delle BCC come energia, ho letto il... Ecco, il tema dell'energia, e torno, faccio un po' la matematica, insomma, la scienziata, torno un po' all'idea iniziale di questo tempo spazio che nella dimensione dell'energia si ricompongono. E si ricompongono attraverso un concetto chiave che è profondamente politico, che è profondamente sociale, che è quello della potenza. C'è una parola bellissima in inglese che è empowerment, l'empowerment delle donne, l'empowerment dei giovani, l'empowerment delle comunità. Io ho cercato di tradurla questa parola in italiano, non ci sono riuscita, se non nella parola potenza, nel concetto fisico di potenza. La potenza è la capacità di agire un'azione storica e che in qualche modo attiva una velocità, e quindi un'attivazione di un tempo, di uno spazio che si modifichano. E quindi è un'azione che si fa generatrice di processo storico. E questo è il concetto di base di energia. Ed è quello che Einstein diceva, che tutto è energia, è tutto quello che esiste. E quindi quello che dobbiamo fare, ci diceva, è sintonizzarci e programmarci sui nostri desideri e capire che quei nostri desideri diventeranno la direzionalità del nostro agire se avremo il coraggio della speranza. E io credo che oggi, in questo momento difficile, il nostro Paese debba avere sostanzialmente questo, il coraggio di reincarnare una speranza nelle nostre scelte. Di farlo sapendo che siamo in una tempesta, perché siamo in una tempesta, ma quando c'è una tempesta bisogna saper cogliere i venti favorevoli. Ma i venti favorevoli non sono dati a chi non sa in quale porto andare. E allora oggi, sempre andando in citazione, quello che credo serva al nostro Paese è ritrovare quel sogno che di fronte a questo mare in tempesta ci dica che valga la pena attraversarlo questo mare, avere chiara la direzionalità del porto e sono certa che a quel punto i venti favorevoli per direzionare la nave li sapremo trovare tutti insieme. Grazie. 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 Grazie.